Ben ritrovati, allora di primo mattino oggi parliamo di cucina, di ricette e di golosità e di diciamo di allegria attraverso anche appunto il cibo con il nostro Germano Pontoni, buongiorno, maestro di cucina. Allora Germano Pontoni oggi ci presenta il terzo capitolo del manuale diciamo di cucina di Ciccio Pasticcio, avevamo presentato penso almeno uno degli altri due qui qualche tempo fa e insomma Ciccio Pasticcio va in vacanza, ricette per l'estate, abbiamo ancora qualche giorno per goderci l'estate ma è sempre, diciamo sono sempre verdi questi libri. Senz'altro. Allora come è nata innanzitutto partiamo dalle origini, spieghiamo chi è Ciccio Pasticcio. Allora Ciccio Pasticcio nasce nella scuola dell'infanzia di via Marsala a Udine grazie a un insegnante che insieme al gruppo hanno deciso di mettere vicino delle lezioni sulle sensorialità, sugli organi sensoriali e quindi per caso i bambini hanno cominciato a capire, hanno visto in me un personaggio particolare perché durante questi incontri non è che si erano severi, seri, ma giocosi perché con bambini bisogna essere così e da lì praticamente dopo quattro settimane più alcuni giorni per la preparazione di biscotti i bambini si sono arricchiti di questa realtà giocosa ma però importante per la loro preparazione intellettuale per il domani. In che anni siamo? Siamo circa una decina d'anni fa e diciamo che poi durante le vacanze di Natale a Udine c'era in Piazza Duomo uno stand del comune dove si facevano biscotti per la preparazione dell'arbero di Natale e un paio di bambini che erano accompagnati dai nonni e genitori c'è Ciccio Pasticcio, c'è Ciccio Pasticcio e quindi da lì è partito tutto questo nome Ciccio Pasticcio che quando invece era questa iniziativa, questa scuola che faceva da parte della federazione delle scuole di infanzia, ha vinto il primo premio a livello nazionale proprio per il progetto che queste maestre hanno preparato. Quindi insomma beh beh del resto ai bambini bisogna dirlo piace molto no? Mettere le mani in pasta, toccare il cibo, sono molto molto affascinati no? Diciamo che è un piacere questo perché sono gli adulti di domani quindi diciamo dieci anni fa già oggi sono bambini che hanno quindici anni insomma perché è quattordici anni quindi questo prelude che alcuni di questi senz'altro fanno biscottini a casa, fanno preparazione di cucina in questo periodo di coronavirus, senz'altro hanno collaborato con la mamma voi per fare il pane poi per fare altre cose. Certo. Ciccio Pasticcio oggi a che punto è? Esce con un nuovo libro e che impronta particolare ha questo libro? Allora diciamo che il primo Ciccio Pasticcio non l'ho firmato io ma Mazzolari che è stato mio ex allievo e che certamente ha fatto omaggio al suo maestro di una pubblicazione in quanto lui pubblicava dei lavori, dei romanzi e così via ha voluto così illustrare in parte la mia carriera e quindi io lo ringrazio già da qui come pure Genericcio che ha fatto i disegni. Ma quello che è importante è che questa cosa qui si ripete, si ripete ogni anno, si ripete molte volte all'anno con delle iniziative con i bambini, voi per fare la pizza contadina, voi per fare i biscotti, voi per fare i gnocchi di patate con ingredienti del territorio. Ciccio Pasticcio nasce proprio oggi grazie a delle iniziative fatte durante l'estate e quindi queste ricette messe assieme con un cappello di storielle che Ciccio Pasticcio nella sua vita ha supportato, ecco praticamente cose vere però messe così sul giocoso e nello stesso tempo diventano un po' le favole che i nonni o i genitori dovrebbero trasmettere ai bambini d'oggi se nello stesso tempo desiderano anche loro divertirsi. Quindi diciamo è un po' anche autobiografico nella parte... Diciamo è un po' anche autobiografico però diciamo sempre illustrato molto bene dalla... Sì vediamo se la regia, se Tiziano è così gentile, aspetto che ho trovato... Però quello che è più importante è che queste cose sono giocose perché i bambini non devono essere traumatiche anche se alcune volte ci sono dei momenti quando nella tua carriera ti provi in certe situazioni però deve essere sempre un linguaggio molto aperto perché anche i nonni così possono trasmettere mentre leggono. Certo, allora troviamo anche tante ricette. Una delle particolarità dei libri che comunque insomma ha realizzato con l'Orto della cultura Germano Pontoni al di là di Ciccio Pasticcio è proprio la facilità in un certo senso... La semplicità, la semplicità, ecco, delle ricette, la possibilità di poter cucinare qualcosa anche divisivamente così d'impatto con ingredienti semplici dell'Orto e del nostro territorio. Anche un po' andando a riscoprire un po' una tradizione magari di alcuni cibi magari diciamo che si rischia di perdere, no? Abituati forse come siamo un po' troppo dalla frenesia, dal cibo pronto. Sì, diciamo che oggi, come oggi, è possibile grazie a alcune aziende molto accorte trovare dei prodotti del territorio trasformati senza eccessivi ingredienti per mascherare. Quindi questo che è importante è il cibo del territorio con un occhio agli eri perché il genoma che rimane nelle persone che hanno la mia età è quello di avere i sapori, ciò che non è scritto da nessuna parte. I sapori si legano attraverso la lettura di una ricetta che possono essere appunto più o meno dolci, salati, asprini e così via, ma quello che è più importante è appunto avere la possibilità di incontrare qualche volta, dico incontrare, degli ingredienti che sono stati, come si dice, preparati, cioè degli ortaggi coltivati, delle carni di animali allevate, perché è importante che siano, come si dice, strutturate in maniera che la loro maturazione ci dia una sensazione piacevole. Certo. E non una maturazione di cassetta oppure con alimentazioni forzate. Eh, ma è quanto facile o quanto complicato è nutrirsi bene, correttamente, rispettando anche questo tipo di precetti, diciamo. Allora, diciamo che io ho 55 anni di carriera, ho sempre cercato di tutto quello che facevo che mi piacesse sotto l'aspetto gustativo e sotto l'aspetto di preparazione e il piacere di preparare. Quindi tutto questo mi permetteva e mi permette ancora oggi di offrire, di dare, di regalare alle persone che gustano i miei piatti, la sensazione che provo io. E quindi questo diventa un amore per la cucina. Quando è cominciato questo, quando è sbocciato questo amore per la cucina? È sbocciato in controcorrente perché mio padre voleva che facessi i ragionieri, quindi mi ha mandato alla scuola di Valussi e quando c'era il pomeriggio, anche le lezioni di pomeriggio, mi portavo sopra la mensa comunale, specialmente durante l'estate, al fine della scuola, verso il mese di maggio, mi diceva guarda la giuvedica, sono all'inferno. La messa comunale con le bocche di lupo che si vedeva oltre e diceva vedi laggiù, sono all'inferno e più mi parlava così, più facevo l'incontro, l'incontrario. Quindi ho fatto anche i lavapiatti al gelso e poi piano piano insomma sono arrivato a 20 anni, 22 anni ad avere la mia brigata di cucina e via via insomma scegliendo proprio quello che mi piaceva e quello che nello stesso tempo la mia mente desiderava. Allora Germano, una domanda diciamo un po' più così personale, anche questa era personale, però cosa ha fatto Germano Pontoni durante questo lockdown? Non si è fermato perché abbiamo visto insomma che ha dato alle stampe un nuovo... Ma come ha impiegato il tempo anche dal punto di vista culinario? Per iniziare, per vedere, per far nascere un libro ci vuole il suo tempo, a me mi ci vuole circa un anno, un anno e mezzo perché devo vedere tutte le specie trattature. E certo. Sì, quindi ci vuole un lavoro. Diciamo che durante questo periodo qui ho avuto mio figlio, giustamente molto bravo, forse sarà un fattore genetico, che sabato o la domenica si faceva il barbecue, la griglia o lo spiedo e durante la settimana ogni tanto quando studiavo qualche piatto e si lo assaggiavo insieme e avevo delle sensazioni così di prima mano e nello stesso tempo riuscivo a capire in quel momento dove tutti eravamo un po' in gabbia quali potevano essere le esigenze. In effetti l'esigenza è stata quella di entrare nel merito degli acquisti seppur limitati perché sul territorio in quella volta insomma, alcun tempo, ieri l'altro, non era grande varietà quindi dovevi muoverti fuori dal tuo comune, non potevi trovare insomma gli ortaggi. A prescindere questo insomma sono riuscito a venire fuori. La cosa che più mi è piaciuto, mi è stata gradita, che sentivo dei miei fornitori, cioè le persone che sono vicine a me per i libri, che dicevano, sai abbiamo avuto una richiesta enorme di farina per fare il pane, quindi il centro, il pane così chiamato di farina di terre di mezzo, ha avuto una grossissima richiesta di fare pane, quindi pane, pizza, gnocchi. Tutti ci siamo messi, no? Ecco, è stato praticamente forse l'ingrediente più gettonato, poi anche la verdura, la frutta. Lievito. Diciamo che in molte famiglie, in particolare dove magari c'era una persona accorta sull'alimentazione che dei bambini, è stato trattato il tema ortaggio e frutta in una maniera diversa di quello che quotidianamente ancora oggi così accade. Allora Germano, abbiamo solo un minuto, volevo farti chiudere così. Allora, tu dici che l'idea di questo libro, ma insomma delle produzioni che hai fatto, è quella di trasmettere il piacere dello stare insieme. Certamente. Io penso che proprio attraverso anche la panificazione, questi piccoli riti che si sono un po' insinuati nelle nostre famiglie, si sia proprio celebrato un po' il piacere di stare insieme, quindi sia stata un'occasione, ecco, anche se non positiva. Da un lato negativo, però sotto questo aspetto è positivo. Però insomma dai. Allora, io vi ricordo Ciccio Pasticcio 3, questi sono i racconti di Ciccio Pasticcio, va in vacanza, le ricette per l'estate, in realtà ovviamente non sono esclusivamente per l'estate, trovate un po' di tutto, vi potete divertire con i vostri bambini, lasciarli sperimentare, mettete appunto le mani in pasta. Per le presentazioni del libro, gli appuntamenti, vi rimando al sito ortodelacultura.it che pubblica Ciccio Pasticcio, ma non soltanto, molti altri romanzi e libri. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie a te lo staff e in particolare a te che... gentilmente è sempre... Molto gentile, molto gentile. Grazie allora Ciccio Pasticcio e noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito dopo. Mal dimando.